Siamo sempre qui a parlare di queste questioni riguardo a ciò che si può dire e ciò che non si può dire, dove nasce questa follia, perché ormai è una psicosi del politicamente corretto, perché ne sentiamo parlare da tanto tempo, ma forse è meglio capire un po' come nasce. Io sostengo da molto tempo che si tratta di una radice ideologica, la radice ideologica che ha a che fare con il relativismo che domina nelle classi agiate e soprattutto istruite dell'Occidente dopo la fine delle ideologie classiche 8-9 centesche. Questo relativismo porta a una fondamentale dequalificazione della dialettica politica, perché si tende a individuare in tutta la cultura occidentale, in tutta la civiltà occidentale una forza di discriminazione, di asservimento che deve essere decostruita, demolita e il primo stadio di questa demolizione è proprio il linguaggio per riformulare il pensiero. quindi da questo viene un atteggiamento di continuo tentativo di eufemismo, di censura per costringere la gente a pensare fuori dai canoni della tradizione occidentale, secondo un presunto pensiero inclusivo e non discriminatorio che dovrebbe essere adottato da tutti. Ecco, qui sostanzialmente si riscrivono le parole, si cambia il linguaggio per cambiare i pensieri, che è una cosa che abbiamo visto molto spesso con quello che io definisco sanitariamente corretto, lo rivediamo adesso anche sulle questioni legate alla guerra, cioè al di là delle opinioni che uno può avere su una cosa o sull'altra, un conto è confrontarsi, anche scontrarsi, perché ci sta il confronto anche duro sulle idee, fa parte dell'Occidente questo, l'Occidente è un luogo, l'Europa è un luogo che ha fatto dalla libertà di pensiero e di espressione uno dei suoi dati fondamentali, nessuno di noi credo che sia contro questo. Poi c'è una deriva, io le faccio un esempio, perché le chiedo un commento su questo, mi hanno segnalato alcuni ascoltatori che ci seguono, una faccenda un po' strana, che succede proprio a Roma, decimo municipio, c'è una proposta di istituire un regolamento che dice che non bisogna concedere spazi, non bisogna concedere alcun tipo di supporto e bisogna anzi denunciare all'autorità tutti gli eventi, ma non solo gli eventi, le conferenze, i banchetti che siano in qualche modo riconducibili a idee sessiste, omofobe, razziste, fasciste, naziste, la proposta prevede che tutte le associazioni, quando è una cosa molto, poi questo è il ricasco nella normalità, tu vuoi fare un banchetto, vuoi diffondere la tua idea, fare una raccolta firme, vuoi organizzare una conferenza, allora quando richiedi al municipio uno spazio, allora cosa devi fare? Devi firmare una dichiarazione di antifascismo, che uno è la solita trappola, uno ti dice ma che problema hai, sarai mica un fascista, un nazista, e qui però è una sottomissione ideologica, non perché uno voglia essere un cattivone, andare a perseguitare la gente, ma perché, a chi devo rendere conto se le mie idee sono omofobe, sessiste, c'è sempre qualcosa che non va bene, in questa maniera però io ti proibisco magari di parlare dell'utero in affitto, di parlare se vogliamo domani, anche fare una riunione, parlare dei vaccini, parlare della guerra, parlare di qualunque cosa, ti limito sempre comunque la possibilità di esprimerti, che poi lo facciano persino nel municipio dove magari uno, i cittadini vogliono democraticamente esprimere le proprie idee, chiedere agli altri cosa ne pensano, io lo trovo molto inquietante. Qui siamo proprio al cuore della questione, noi ridiamo di questi fenomeni un po' grotteschi, ma c'è poco da ridere perché qui siamo proprio al cuore del modello del cosiddetto pensiero unico, qualcuno a un certo punto stabilisce che Tizio o Caio sono impresentabili, su quale base lo stabilisce, con quale autorità lo stabilisce? Assolutamente semplicemente perché si trova in quel momento in una posizione di potere e questo qualcuno si arroga il diritto di dire ciò che è civiltà e ciò che non lo è, ciò che è ammissibile nel dibattito e ciò che non lo è, dopodiché si censura senza pietà, come dicono nei collegi anglosassoni dove non fanno parlare quelli che portano idee sgradite, i conservatori etc., si de-platforma, si fa il de-platforming, non si concede una tribuna a chi si ritiene avere delle idee dannose e nocive. Su quale base si può pretendere una cosa così assurda? Sostenendo che quelle idee sono offensive, nell'ottica del relativismo radicale che ha a che fare con il pensiero anti-occidentale che noi chiamiamo woke o politicamente corretto, la offesa è praticamente una violenza, se a me non sta bene una cosa che tu dici, in quanto io faccio parte di una categoria che si sente attaccata, per me quello è come se tu mi avessi aggredito e fatto una violenza fisica, quindi io posso pretendere che tu vengas indito, che tu vengas cancellato dal dibattito, è semplicemente proprio l'abolizione del principio del confronto sulle opinioni, così come è stato, diciamo, faticosamente conquistato dalle guerre di religione in poi, dai regimi rappresentativi dell'Occidente e dell'Europa nelle pretanze moderne e contemporanee. È un fatto difficilmente riconducibile, di cui non si può parlare perché nel momento in cui ne parli tu vieni etichettato come uno che difende gli impresentabili e quindi favorisce la violenza, è un cerchio che si avvolge su se stesso senza uscire. Lecchio questo però, perché qui c'è anche un tema, io cerco di prenderla sul serio e penso, allora ci sono, mi è capitato di recente di scoprire che alcuni grandi noti scienziati, magari non al grande pubblico ma alla comunità scientifica, penso a il nipote di Darwin. Nipote di Darwin, uno che ha avuto una grande influenza sul mondo scientifico della sua epoca, era anche contemporaneamente colui che ha inventato l'eugenetica, sosteneva delle cose terribili, diceva che bisognava sterilizzare una parte della popolazione, che i poveri non dovevano avere figli, ha ispirato prima ancora dell'eugenetica, dei lager, quella che è andata in scena realmente nel mondo anglosassone, anche negli Stati Uniti, abbiamo visto campagne contro le nascite nei quartieri neri, ad esempio, cose terribili, motivo per cui ancora oggi la comunità nera è molto restia alle politiche sanitarie, ad aderire a certe politiche sanitarie statali, tant'è che c'è stato un meraviglioso cortocircuito, perché poi Black Lives Matter, tanto celebrato, poi era contro i vaccini e quindi gli esplodeva la testa ai woke americani. Ecco, allora io mi chiedo, vabbè, magari uno, capito, che va a scuola e si trova un'aula dedicata a questo signore con la sua bella targa, dice cavoli, sono un po' in difficoltà, forse esistono delle cose che superano, delle cose brutte che uno ha fatto nella storia e che superano le cose buone che ci ha lasciato e magari un giudizio anche morale di un certo tipo può esistere. Questo è un problema che io mi pongo, è come se uno andasse, non lo so, oggi inauguriamo la biblioteca dedicata a Andrei Cikatilov, mostro di Rostov, e uno dice sì, perché è stato sì un cannibale che ammazzava la gente, però è stato anche un bravo insegnante e quindi gliela dedichiamo per questo, e uno dice, vabbè, cavoli, me lo posso porre il problema. Io mi do questa spiegazione e chiedo conforto a lei, secondo me il punto sta in questo, che ci sono figure oggettivamente impresentabili, mostruose, che però vanno conosciute, vanno esaminate della loro complessità, sapendo che il male esiste dappertutto. E poi però ci sono anche persone che non fanno nulla di male, che però sono avvicinate ai mostri. Faccio un altro esempio pratico, abbiamo visto questo caso del decimo municipio, ma chi è che oggi si mette a fare un banchetto per sostenere idee sessiste? Non c'è nella testa di nessuno uno che va a fare il banchetto per dire, non so, donne in cucina, oppure firma per bastonare. Il problema è che questo sismo non lo stabilisce lei, ma lo stabilisce un qualcuno a cui non si sa perché viene data un'autorità assoluta nel dire questo. È un termine così generico che si può applicare praticamente ad libitum a situazioni anche estremamente diverse. Se io dico che si fanno troppi pochi figli e che il calo della popolazione è preoccupante, qualcuno può dire che io sono sessista perché voglio costringere le donne a stare a casa a fare i figli. E quindi mi escluderà il dibattito. Ma lei è fascista? E quindi perché Blangiardo oppure altri demografi che sottolineano questa cosa o la povera ministra Lorenzini, povera, io non ho particolari simpatie per lei, quando si permise da ministro di fare il giorno della fertilità, solo nominare il termine fertilità in questo paese fa scoperchiare le tombe, venire fuori i morti e scatenare una rivoluzione. Perché immediatamente si dice fertilità uguale, politica del fascismo, 9 milioni di baionette, donne che è l'angelo della casa e tutte queste cose qui. Quindi è impossibile. È curioso però, perché lei ha citato un esempio interessante, perché se la Lorenzin fa la cosa sulla fertilità, ah maledetta fascista schifosa, se la Lorenzin fa una legge che invece ti impone di fare 6 vaccinazioni e tu non puoi dire niente, non puoi neanche chiedere, ma scusate ma perché 6, che prima erano 3, per quale motivo, a chi giova, no, il fascista sei tu, 10, no, perché sì, erano 6 in più delle altre, comunque, no, la stessa persona che fa due cose diverse a seconda che vadano bene al potere o meno, allora diventa buono o cattiva.